Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io SuperTumi97 e benvenuti a questa quarta parte di Pokémon Bianco 2. Strano modo per iniziare una parte, solo che io stavo vagando un po' così in cerca di allenatori da sfidare e voilà che mi spunta bella davanti. Scusa, mi ero dimenticata di aggiornare il Pokédex che ti ho affidato con questa nuova funzione, la lista zone. Su, dammi un attimo il tuo Pokédex. Ecco, la lista zone ti permette di vedere quali Pokémon vivono in una determinata area. Ora ti spiego come si usa. E' facilissimo, apri il Pokédex e tocca l'icone zone in basso a sinistra, poi scegli la zona e vedere... Ecco, questa è una no... no, 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 non mi devi dispiegare tutto. Questa è una novità che hanno messo che è abbastanza utile a quanto credo, perché è utile sapere dove vive un Pokémon. Eccoti un consiglio. Mentre cammini, ti può capitare di intravedere dei cespugli d'erbalta che ondeggiano. Devi sapere che lì... eh, eh, non voglio arminarti la sorpresa. LOL, ora me ne vado. Riempire il Pokédex vuol dire anche allargare i propri orizzonti, perciò visita quanti più posti puoi e incontra Pokémon diversi. Ciao! Ciao, Bella! Ok, questa funzione comunque adesso non c'ho voglia di provarla, comunque, come avete capito, servirà a vedere appunto dove vivono determinati Pokémon. Oh, ma quella è una medaglia che luccica, è una medaglia base! Ma non montarti la testa, la vita è molto più dura di così, te lo farò vedere subito. Ah, ci vuole sfidare. Quindi ci... cioè, prima ci bloccava la stadia, adesso ci vuole sfidare, sto idiota. Uh, ha un bel Riolu alla faccia, non è tanto un idiota. E ha lo stesso livello del nostro. Del nostro Riolu, intendo. Eh, facciamogli un tono shock. Ci preveggenza. Noi lo tono shockiamo. Ancora attacco rapido. Beh, sì, non è molto furbo, forse non ha... non gli ha... Vabbè, tanto non ha senso usare Contatore con Shipper. Con Speedy, scusate. Sono abituato a dire Shipper perché era il nome delle... Del mio Amparos in... In Earth Gold e SoulSilver. Comunque, Speedy dovrebbe adesso concludere la battaglia con un bel tono shock. Perfetto. E il signor avventuriero rompiscato, l'è stato battuto. E Shipper quando sale quasi... Eh, scusate, di nuovo. E Speedy sale quasi a 12. E io che pensavo di aver... Non ho capito, vabbè, io pensavo di aver vinto. Vabbè. Occi picchia, devo proprio farti tanto di cappello. Una squadra di Pokémon così fedele. Puoi anche tenere testa agli adulti. Beh, mi sembra ovvio. Eh, conviene delle scatole. Allora, ragazzi, adesso ci sarà un po' di gente da battere. Ah, no. Tumi, aspetta. Forza... Ah, no, è Komor. Forza, venite con me. Dove ci porta? Ah, erba scura. Vedete quell'erba alta di colore più scuro? Non capita spesso, ma ogni tanto da lì saltano fuori due Pokémon alla volta. Altre volte vi nasce e nascondono i Pokémon particolarmente forti. Perciò, quando passate di là, tenete presente che è meglio essere preparati. La vostra prossima prova è la sfida nella pressa di Zondopoli. Prendete questa e vi sarà utile. Otteniamo bacca pesca. Sì, utile. Proprio per niente. No, so perché è utile. Se non mi sbaglio, la bacca pesca è quella che serve per il veleno. Infatti la prossima palestra dovrebbe essere quella di veleno. E se avete bisogno di me, chiamatemi all'Interpokè. Ho fatto anche la rima. LOL. Che tipo quel Comorce? Beh, sa veramente un sacco di cose. Chissà come mai. Ho anche affrontato quei brutti ceffi del Team Plasma. Sì, ma adesso è diventato scarso. Ho deciso, voglio diventare più forte di lui. Beh, sei già, sei ben reso la medaglia, sei già più forte di lui. Conto anche sul tuo aiuto mentre continui a riempire il Pokédex. LOL. Io mi metto a cercare Pokémon nell'erba alta. Oh, troviamo una bella Megaball. Molto bene. Di Dio? Devo assolutamente diventare più forte del Team Plasma. Ma se non l'hai ancora incontrato il Team Plasma. Ce l'ho incontrato solo io da solo. Vabbè, comunque ragazzi, qui ci sono un bel po' di allenatori da battere. Quindi io stacco qui e ci rivediamo dopo quando avrò già battuto tutti gli allenatori. E quindi faremo il percorso insieme. A dopo. Ok ragazzi, rieccoci. Ho battuto tutti gli allenatori. Allora, giusto per farvi sapere. Allora, questo bambinetto aveva uno Psyduck al 10. Questa qui aveva un Lillipoop al 11 a 10, non mi ricordo. Questa qui aveva un bel Dance Preach all'11. E queste due saranno una lotta in doppio. Avranno due Sunkern al 9. Ok, a questo punto attraversiamo. Qui mi ha bloccato questa signora e mi ha regalato una Megaball. E mi ha detto che viaggiare è molto divertente. Grazie. E voilà, ho fatto bene non andare avanti perché è l'interpo che sta squillando. Oh, mia mamma. Ciao tesoro, dove sei? A Zondopoli. Allora hai visitato il cantiere? Quale cantiere? Il panorama naturo della città è piuttosto interessante. Poi il cantiere è anche un posto adatto per allenare i Pokémon. Tutti i Pokémon avete potenzialità diverse. ma spero che unendole riuscirete a raggiungere risultati sorprendenti. Sì, grazie. Ehm, bene. Avanziamo. Oh, attenzione. Due tipi sospetti. Velia, non cercare di fermarmi. Sto andando al Pokéwood per far sbocciare il mio vero talento. Fare il capitano non mi basta più. Voglio diventare una star. Ma come? Tu sei un capitano? Sei... Se non piloti la tua nave, come farà la gente? Figlia mia. Non ti... Non... Ti dividi anche tu tra i doveri del ruolo di capo palestra e la tua attività di cantante? Perché mai non potrei fare io la stessa cosa? Ah, questa è la capo palestra, quindi. Quella di beleno? Grrrr! Testa dura, cocciuto, testa di legno. Il problema non è dividere il proprio tempo, ma lasciare a terra i passeggeri. Un capitano egoista che non fa partire una nave imperdonabile. Grrrr! Basta! Ve ne vado in palestra! Eeeh! E anche una rocchettara! Ma che figata è! Dai! Bellissimo! Questa è la nuova capo palestra. Veleno rock. Beh, probabilmente la sfideremo anche adesso, credo. Ok, salviamo il gioco. No, scherzo, curiamo i Pokémon, il gioco non ho voglia di salvarlo. Lol. Eeeh, no! Ok, perfetto. Via, via. Ok. Ottimo. C'è ancora un bel sole nonostante siano le sette passate? Forse perché è segnato estate. Ui là, un'altra rocker, marabam. Cos'è la città dei rocchettari questa? Che figo, c'è anche il mare, spettacolo. Voglio salire su quella nave. Questa è la capitaneria, credo. Ce l'ha ancora. No, bellissimo col canale. Ti, ma dai, non posso superare sta tipa. Ma che figata, è veramente bellissimo. Che città stupenda. Come faccio ad andare dall'altra parte? Che vedo una bella Pokéball? O l'hanno messa lì su... No, no, ci potrò arrivare in qualche modo. Zondopoli. Rock e lavoro duro. Eh sì, sì, davvero, non è più quello, la del motto. E dov'è la palestra, però? Non credo sia questa. Sarà qui? Ah no, cantiere di Zondopoli. Sembra molto l'entrata del deposito frigo, perché è proprio sotto la città. E... Beh. Cantiere di Zondopoli. Però prima di andare un attimo a sto cantiere, volevo... Volevo andare su a vedere se si poteva passare, già. O se sono obbligato ad andare al cantiere. Ecco appunto, lo sapevo. Più avanti si trova il mondo di Maraville del Pokéwood. È uno studio cinematografico e proprio ora stanno facendo delle audizioni. Stanno insieme a come la capacità recitativa del capitano. E vi è dato l'ingresso? I know that I love already. Lo immaginavo, quindi devo andare al cantiere. Prima vediamo solo un attimo qui. Eh sì, lo so che Zondopoli non è cambiato. Ah. Qui è... Questa è la palestra? Velia, velen, musica. Ah che figata. Fermo là. Questa non è solo una... Questa non è solo una palestra. È anche un locale di musica dal vivo. Il capopalestra e i compagni si stanno allenando all'interno. Vai pure a sfidarli. Ah, prima di proseguire, fate un bicchiere di questa. Yeah. Un bel mojito. No, scherzo. Bella acqua fresca. Entriamo. Ma che figata. C'è tutta la musica. Ma è spettacolo. Ma bellissimo. Ma chi se l'ha inventata sta cosa? Sentite che fa T. Oh. Eh. Vabbè ragazzi. Allora, io batto gli allenatori di questa palestra e poi ci vediamo davanti a Velia, così la sfideremo. Quindi, a dopo. Ben ritrovati ragazzi. Allora, perché ci ritroviamo qui? Semplicemente perché io voglio in squadra un Growlite. E come vedete, l'abbiamo già trovato nell'erba del cantiere. Eh, ero nel cantiere perché mi stavo allenando un po', perché ho visto che i Pokémon della palestra sono davvero molto forti. Quindi, cattureremo questo Growlite, che sarà il nostro... appunto, entrerà a far parte della nostra squadra. E possiamo usargli una Megaball, così siamo sicuri di prenderlo. E... Vediamo se lo prendiamo. Vai. Perfetto. Ok, ottimo. Non ho idea di che soprannome dargli, ma gliene sparerò una a caso che poi sicuramente cambierò. Quindi lo chiamiamo... ehm... Strike. Ma chiedetemi il perché. Lo chiamerò Strike. 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 Dove cavolo è? Cioè, la nostra squadra sta venendo praticamente, a parte Ryu, tutti i Pokémon chiamati con la S. Strike. Ok, perfetto. Strike è stato trasferito al PC. Perfetto, ragazzi. Volevo solo farvi notare una cosa. Allora, quando... Andando qui sopra, ci sarà uno scienziato che vi dirà una cosa e poi se ne andrà via. Giusto? Credo che sia una cosa legata alla storia, quindi... Giusto per farvi capire. Ehm... Interessante. Si trovano comunque Pokémon molto forti in questa area e quindi se volete dei Pokémon buoni vi consiglio di prenderli qui. Comunque noi sempre ci rivediamo dopo alla palestra e allenerò anche il nuovo Growlite appena preso. Quindi a dopo davanti alla palestra. Rieccoci ragazzi, tipo per la quarta volta che riprendo questa parte dico sempre di trovarmi di fronte alla... Con palestra invece non ci vedo mai. Perché? Perché adesso il nostro Speedy si evolverà. Voilà. Salerà al livello 15. In realtà vi rivolgo un segreto. Io l'ho già sfidata la capopolestra e non sono riuscito a batterla. Quindi ho pensato che una buona mossa sarebbe quella di mettere... Di far evolvere il nostro Speedy in modo da renderlo più potente e riuscire a farlo competere con i Pokémon della capopolestra che sono assai forti. E ora, voilà! Cosa? Speedy si sta evolvendo. Attenzione, la nostra nuvola Speedy aumenterà la sua velocità. Incredibile fusione del DNA. Ricomposizione. Voilà! E il nostro Speedy si è evolvuto in Fluffy. Perfetto. Allora ragazzi, stavolta credo davvero, poi ci rivedremo davanti alla capopolestra perché credo a questo punto di poterla abbattere. Quindi ci rivediamo... Anzi no. Perché ci rivediamo davanti alla capopolestra? Ci andiamo direttamente, tanto i Pokémon sono curati, no? Esatto. E allora andiamoci direttamente, scusate. Allora. Ok, che figa sta palestra rock. Ah, guardate c'è un bel graffito di un Koffing dietro. Ok. VS Velia. Perfetto. Parte la sfida di Velia che popolestra. Manda in campo Koffing. Ha due Pokémon. Koffing è il primo, il secondo lo scoprirete dopo. Ok, forza il nostro Fluffy usa un bel tuono shock e spero sia molto... Eh, sì dai, si è potenziato rispetto a una volta. La tua voglia di vincere è talmente forte che tutta l'aria qui intorno ne è intrisa. Ma parla come mangi, intrisa. Da dove l'hai tirata fuori sta parola? Dal luogo di Pasqua. Vai con tuono shock e andiamo a sconfiggere il Koffing che la scorsa volta che ce l'avevo provato avevo sprecato due Pokémon su sto Koffing. E ora però cambiamo Pokémon contro Weirlypid. Speedy me lo tengo per dopo. Allora, vai Strike. Che come vedete è salito al 12. Non è ancora finita, preparati. Ora mi scateno sul serio. Si scatena. Allora. Allora. Mannaggia. Il veneno shock di questo Weirlypid è parecchio forte, ma attenzione. Anche il bracere del nostro... Del nostro Strike sembra fargli parecchio male. Insomma, non troppo però abbastanza. Allora, adesso mandiamo come diversivo il nostro glotto. Che ce l'ho ancora in squadra, perché è inutile. E nella borsa prendiamo la pozione e diamogliela Speedy che aveva perso giusto giusto 19 PS così li recupera tutti. Qui intanto ci usa Velenoshock. Il nostro glotto va KO, ma che strano. E quindi mandiamo Speedy adesso. Vai Speedy, nuvo, Speedy. So che ce la puoi fare. Vai con Tuono Shock. Velenoshock contro Tuono Shock. Chi sarà più forte? Tuono Shock, ovviamente. Eh, mica tanto. Vai, proviamo a paralizzarlo, magari. Può essere una tattica interessante. Tuono Honda. Magari così... Non gli va a segno anche qualche attacco, che non sarebbe una cattiva cosa. Andiamo col nostro Tuono Shock. Ecco, lui non fallisce, purtroppo. Ecco, rimaniamo a 5 PS. A questo punto si può tentare l'azzardo, oppure... Oppure fuggire come dei conigli. Quindi io, visto che sono bravo, fugo come un coniglio. Non voglio bruciarmi subito il mio Pokémon più forte. Quindi mettiamo Kua. Che usa pistola acqua, ma... Whirliped è paralizzato, direi fantastico. Ecco, adesso userà la super pozione, appunto. Quindi quello fatto fino ad adesso è stato tutto inutile, è ottimo. Fantastico. Quindi direi di usare una bella pozione sul nostro Speedy che sta morendo, poverino. Ho recuperato dei punti salute. You don't say. Chi usa vella non shock? Noi andiamo K.O. Abbiamo Sneak. La Sneak lo useremo una volta come diversivo, perché tanto gli attacchi di Sneak non gli fanno niente. Quindi usiamo ancora una pozione su Speedy. Che adesso dovrebbe avere quasi tutti i punti salute. Uffa, ma quanti pp ha veleno shock. L'ha fatto troppe volte. Ecco, adesso non saprei cosa fare, sinceramente. Facciamo frustata, anche se non gli toglierà niente, però. Mamma mia, se va bene gli ho tolto mezzo PS. Proviamo con azione, ma che magari gli fa più danno che... Eh sì, un po' meglio azione. Poco, eh, però... Ok, perfetto. Vai, Speedy, è il tuo momento. Fallo secco. Vai con tu una shock. Ma cavolo, è un bozzolo. Se viene investito da un fulmine, è mai possibile che non... No, questa non ci voleva. Non ci voleva proprio. Brutto colpo. Che fortuna che ha avuto. Maledetta Velia. Usiamo una pozione. Oh, perfetto, è paralizzato. Adesso la fortuna ci aiuta. Vai, eccolo lì che usa protezione. Venduto. Chi te l'ha insegnata sta mossa? Ancora tu uno shock, Speedy. Ce la puoi fare. Io credo in te. Brutto colpo anche per noi. Attenzione. La fortuna pareggia i conti. Ma non è vero perché ci avvelena. Questo non va bene. Forza. Sì, dai. Yes. Grande, Speedy. Sei un grande. Sicuramente crescerai e diventerai un grande Pokémon. Saliamo al 16. Saliamo al 17. Saliamo al di... No, sto scherzando. Ti sono saliti di due livelli. L'abbiamo battuto Velia, la Rocchettara. Yeo, raga. Yeo. Dannazione. Come ho fatto a perdere. Tu devi essere proprio forte. Ma dai. Eppure ce l'ho messa tutta. E ora mi sento rinfrancata e soddisfatta. Questa è per te. Et voilà. Otteniamo la bellissima medaglia... Non so come si chiama. La medaglia... Viola. No, come si chiama? Medaglia... Arsenico. Arsenico? Che diavolo è l'arsenico? Forse sarà un fiore, tipo. Sì, vabbè. Un altro regalo per te. Usa questa mette. Oh, la mette veleno shock. Finalmente quella mossa che ci usava sempre contro. E veleno shock. Ricopre l'avversario di un veleno. Inoltre, se l'avversario è già avvelenato, raddoppia i danni. Ah, bello. No, ma non suoni più. Era divertente. Ma attenzione. Arriva... Un cresta gialla. Ehi tu. Ho sentito la forza speciale durante la tua sfida contro Velia. Vieni con me nel Pokéwood. Attenzione. La rocchettara viene verso di noi. Vai al... Vai al Pokéwood? Ah, quasi mi dimenticavo di mio padre. Voglio dirgli di tornare a fare il capitano. No, ma dai. Era così bello che si mettevano... Mi metto io a fare il cantante adesso. Forza, dai. Forza DJ. Batterista. Vai. Basta. Cagata. Via. Ma se io rientro si mettono a suonare? No. Che idioti. Che schifo. Era bello quando suonavano. Piuttosto adesso non salvo. Boh, torno indietro. Giusto per sentirle suonare. Era talmente divertente. Beh, come vedete fuori è notte. Perché, giusto per comunicarvi, sono quasi le dieci, quasi le undici. Che sto registrando sta parte. Dicevano che era bello di notte qui a... A Zondopoli. E allora, boh. Penso... In effetti è molto bello. Guardate che bello anche l'effetto di questa gru sopra. Vabbè. Quindi qui si è aperto il passaggio per il Pokéwood. Solo che in questa parte non... Cioè, sinceramente non so neanche cosa sia il Pokéwood. Credo sia il cinema. Però non lo so. Quindi ci andremo nella prossima parte. Quindi intanto curiamo i nostri Pokémon. Ringraziamo tantissimo il nostro Speedy che ha fatto un grandissimo lavoro. E grazie a lui siamo riusciti a battere la palestra. Perfetto. Ok. La tua scuola di Pokémon è in perfetta forma. Torna quando vuoi. Ottimo. Allora, salviamo davanti al centro Pokémon. Salva. Ok, salviamo. Perfetto. Quindi per questa parte è tutta. Abbiamo preso la medaglia di Davelia, la capopolestra rocchettara di veleno di Zondopoli. Abbiamo preso nella nostra squadra il nuovo membro, ovvero Strike. Quindi spero che la parte vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Io vi saluto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Grazie a tutti.